Alla fine vi presento, Marcello Terecicco, Taranto, neuropsichiatra e per giocare ci dedichiamo un po' alle attività culturali. Di che cosa si parla? Si parla di comunicazione, che è l'elemento fondamentale dell'essere umano e che lo differenzia da tutti gli esseri biologici esistenti sulla faccia della terra. L'uomo ha il suo cervello e usa la parola, questo strumento, per venire in contatto innanzitutto con se stesso. Noi osserviamoci, Daniela non sta tanto bene, dice che tosse, non c'è male, la faccia assume una mimica particolare, le parole sta comunicando uno suo stato interno, quindi una comunicazione introdiretta. Poi ovviamente la comunicazione serve per rapportarci al mondo esterno. La rivoluzione che noi abbiamo avuto nel campo della comunicazione è stata la radio. È stata la radio, il primo strumento che superava i confini in tempo reale e consentiva agli uomini di provenienza diversa e di regioni geografiche diverse di venire in contatto fra Dio. Però quella comunicazione era parziale, non era una comunicazione totale. La comunicazione di per sé prevede tanti fattori. La parola è solo uno strumento. Con la radio noi ascoltavamo solo le parole, non guardavamo in faccia all'interlocutore, per cui ci veniva a mancare l'aspetto emozionale dell'interlocutore, ci veniva a mancare la metacomunicazione, che è molto più importante della parola detta. Noi possiamo esprimere un concetto, ma con il il linguaggio del corpo possiamo esprimere l'esatto contrario di esso. Quindi la vera comunicazione dove sta? In quello che diciamo? Cioè attività del razionale, del cervello, della coscienza? O in quello che realmente abbiamo dentro ed esprimiamo non con la parola? Bensì con la vita comunicazione. La comunicazione ha fatto un altro passo avanti notevolissimo con l'avvento della televisione. E lì c'è stata la rivoluzione delle rivoluzioni, perché oltre alla parola si è aggiunta l'immagine e quindi gli strumenti espressivi hanno acquisito un tassevo in più. Però anche tramite la televisione la comunicazione non è totale, perché la televisione è rappresentazione, non ci dà il contatto diretto con l'interlocutore. La visione vera, il profumo, la sensazione istintiva, a quanti di noi è capita? Capita, no? Non conosciamo una persona, non ce l'ha presente, c'è il ciccio cappuccio, immediatamente ci viene in mente senza nessun motivo quello che sta simpatico è quello che sta sulle scatole. No? Non c'è una motivazione razionale. E' l'inconscio che comunica? L'inconscio, cioè questo grande magma sommerso che alberga dentro di noi e gli inconsci hanno i loro strumenti di comunicazione che vanno al di là della parola. veniamo adesso al tema del film, al cinema e alla televisione. Altro non è quello che uno strumento di amplificazione di tematiche che ci portiamo dentro. Tutti, tutti noi, nessuno escluso. Sentivo prima parlare di giudizi, 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 non credo sia il caso di giudicare, giudizi, già già l'avano giudizi, uno che giudica, già l'impatico, ancora deve parlare, già l'impatico, uno che giudica, sempre il censor. Quando piuttosto osserviamo la realtà, osserviamola, chiariamola, poi ognuno ci pensa su ed esprime quello che vuole. voi provate a immaginare. Ecco, qui abbiamo i video, le macchine fotografiche, nel momento in cui uno si accorge che lo stanno fotografando, poi dici cazzo, no? Uno sta tranquillo, sta parlando, si mette in posa, ovvero cerca di dare un'immagine diversa da quello che realmente è in quel momento. Figuriamoci la videocamera, figuriamoci la videocamera. E allora uno si manifesta, molte volte, non per quello che è, ma per quello che vorrebbe essere. Non essendo un'operazione naturale, perché non è, naturalmente diventa un'operazione coffa, patetica, patetica. E' il segno dei tempi questo. Questo è il segno dei tempi, dove negli elementi comunicativi, parola, immagine, viene fuori anche un altro elemento importante dell'incoscio, importantissimo, regretti narcisi, il mito di narciso, no? Ci guardiamo nello specchio, ci guardiamo. E la televisione ci consente di mostrarci, di farci vedere. Il mondo esterno altro non è che lo specchio di una nostra realtà interna, della nostra maschera. Quello che noi siamo veramente e che non sappiamo neanche, molte volte, chi siamo veramente. Cerchiamo di proiettarlo all'esterno tramite una maschera. Una maschera che non corrisponde alla reale essenza della persona, dell'essere umano. La televisione amplifica queste cose, le amplifica, le amplifica enormemente. E quindi è un modo di dire il mondo dal capo sotto. E questa è una situazione in cui noi andiamo a capo sotto. E noi altro non siamo che espressione del mondo. Per cui non ci dobbiamo stupire del grande successo del grande fratello, dell'isola dei famosi. Non ci dobbiamo stupire quando lo scerro aumenta, quando litigano in televisione, fanno la finta che ci sono a mani da moglie che litigano. Una finzione, una finzione incredibile. Però tutti, nonostante abbiano la profonda consapevolezza che si tratta di una presa per il culo, cliccano su quelle trasmissioni. Sono quelle che registrano un'audienza notevolissima per cui l'aspetto commerciale, il banner, questo e quello, quella, la pubblicità è tutto un mondo artefatto, un ambaradame incredibile basato su che cosa? Sulla falsità. L'essere umano quando entra in comunicazione ha bisogno di tutti i sensi. L'udito, come da ascoltare, il tono della voce, l'espressione del volto, la mimica, l'odore, le sensazioni. In tutte le culture, quando due persone si conoscono per la prima volta, sia un contatto fisico, sia la mano, il bacino, il nasino che si striscono gli eschimesi, ci vuole il contatto di pelle, perché la pelle comunica, l'essere umano comunica, è quella la vera comunicazione. Qui è un teatro, un grande teatro, diciamo che i valori oggi, ed io faccio i complimenti a chi ha prodotto il film, molto acuto in alcuni punti, bella l'immagine della madre, meravigliosa l'immagine della madre, è meravigliosa, perché quello è un altro strumento di proiezione, di proiezione, la madre che proietta nel figlio quello che lei avrebbe voluto essere e che non è stata capace di fare, si trova questo povero Cristo di fronte, verso il quale vengono riversate tutte le frustrazioni dalla madre, vita di tutti i giorni, vita quotidiana. Quindi abbiamo assistito a uno spaccato della vita, della reale, oggi c'è il mondo di internet, il mondo della televisione, la rete, questa enorme comunicazione, un polipo, una piovra che apporge il mondo, ma quella soddisfazione, quel piacere soddisfatto, che ci dico, da fare una conoscenza, piacere, con bacino, quella non potrà mai essere sostituita da nessun strumento tecnologico. Tra l'altro, questo incontro di battito non vuole essere una conferenza per lo senso della parola, ma soltanto dare gli spunti e ognuno può, nelle proprie case, può riflettere sia sul filmato, sul corto, igreggiamente realizzato da Alessandro Ditto, ma da tutti i eccellenze si vede l'altra faccia della medaglia, cioè l'ignoranza più totale, l'assoluta indifferenza alla curiosità, la cultura è curiosità, è la curiosità, cioè quando uno ha voglia di vedere, capire, studiare, porsi dei dubbi, eccetera. E questo noi lo stiamo assistendo anche nel fenomeno mediatico, la bipolarità. Noi vediamo queste cose spinte alle estreme conseguenze, che non è altro che un simbolismo di tipo ipomaniacale, no? Tu riempire tutto di tutto e di più. Questo estremo bisogno di riempire ha alle spalle un vuoto assoluto. L'ipomaniacale non si deve fermare per pensare, perché nel momento in cui pensa va in depressione, vira e se ne va dall'altra parte. Per cui deve sublimare, deve esorcizzare questo pericolo con l'iperattività quando più apparente essa possa sia. Per cui l'omicidio globale, quella è l'apoteosi della reality dal punto di vista della potenziale audience. Voi immaginate, immaginiamoci tutti, del sistema. L'atto estremo è stato quello dell'omicidio, dicendo, ma io non ho toccato, ma sbaglio tutto quanto e buonanotte. Nell'ambito di un reality trasmesso, quello sarebbe stato il best seller del secolo. Tornando a noi, le tematiche dell'essere umano sono sempre quelle. Ci sono gli aspetti personali e ci sono gli aspetti collettivi che riguardano tutti. Osserviamole queste cose, osserviamole, non giudichiamole assai, perché quelli noi siamo. Se noi decretiamo il successo di quelle trasmissioni, è perché siamo noi che le andiamo a vedere. Per cui giudichiamo meno, ma operiamo di più. Operare di più significa quel telecomando, mandiamolo là piuttosto che là e quelle trasmissioni scompaiono, naturalmente, perché poi è l'economia che deve avere. E' l'intenzione che crea effettivamente la realtà. Non se noi guardiamo, se noi pensiamo che... E' quello il meraviglioso gioco degli opposti che ha individuato ed è stato subito. per cui io mi sento innanzitutto di ringraziare voi. Voi, tutti, uno, due, tre, quattro, perché di sabato sera stare in una libreria a parlare di queste cose mi rende onore e merito. Con la Juve che c'è. Perché nella clima che viviamo, va di moda, hai vizzeria, hai scottega, hai stupidaggio in mezzo alla strada. Quindi la vostra presenza è qui e onore e merito a voi. Bravi. E soprattutto onore e merito agli operatori. Ci hanno messo in piedi questa bella ghiacchierata e io vi dico, mi sono spostato da tanto, e sono contento, sono felice. Tra l'altro ho avuto modo anche di stare in trasmissione con Daniela e sono stato altrimenti contento, perché in tutte le cose c'è pure l'aspetto umano proprio, è bello così, come parla bene, quando è bravo, e c'è, no, è una bella guadagnetta. E quindi stare in trasmissione, bravo per riuscire, bravo per riuscire, bravo per riuscire. Grazie. Non so se nel pubblico qualcuno vuole intendere.